Ciao a tutti appassionati di anime manga, sono Alex, come sempre vi do seguimi qui su YouTube, su Instagram, su Twitch e anche in Google Telegram per restare sempre ragionati. Tutti i link come sempre li trovate qui sotto in descrizione. Vi ricordo inoltre di attivare la campanellina per non perdervi ogni mio video. Oggi farò la prima impressione di Susano Oh, manga di Gonagai edito dalla Ikari, prezzo 14,90€, questo è il volume 1, formato molto grande, classico disegno di Gonagai, classico stile disegno ereditato un po' da Shotaro Shinomori. Vediamo proprio questo ragazzo, cioè il protagonista Shingo Susa, che vive una vita abbastanza bullizzato dalla sua sorella più grande, maggiore, mentre a scuola è innamorato di una ragazza Sayuki e la ragazza lo convince ad entrare in un club molto particolare, club dei poteri mentali, cioè dalla ricerca dei poteri ESP e ESP, cercare persone che anche nella vita reale hanno questi poteri. E infatti la presidentessa di questo club ha dei poteri mentali, teletrasporto, chiaroveggenza, telepatia, telecinesi, eccetera, eccetera. E quindi Shingo viene a scoprire che quasi tutte le persone sul pianeta possono essere in grado di sviluppare questi poteri, o meglio le persone le hanno sempre avute, però durante l'evoluzione le hanno lasciate da parte, sono dimenticati di poterli sfruttare. Ovviamente c'è un nemico, chiamato Rei, che è della stessa scuola, che anche lui ha i dei molti poteri ESP, anzi riesce, sta cercando di creare, non dico un esercito, però una compagnia con tante persone con poteri ESP, anzi lui stesso attraverso un ciondolo, che regala a chi vuole partecipare alla sua causa, riesce a tirar fuori tutti i poteri che uno ha, nascosti i poteri latenti. Però non si capisce chi è davvero il dei due malvagio. Spesso una gare usa questa metodologia per cercare di capire, che non fa ben capire chi è bene, chi è il male, anzi magari chi sembrava il bene e poi diventa il male e viceversa. Anche come in Devilman, che fino alla fine non sa davvero chi è il malvagio e chi è il buono, perché ognuno ha le sue idee, ha i suoi sogni e in fondo né uno né l'altro sono sbagliati. Mari forse è il metodo che è sbagliato, però per ora nel più volume non c'è stato sapere effettivamente cosa vogliono soprattutto Ray, cosa vuole davvero. Ray sappiamo solo che vuole che la presidentessa smetta di creare questo gruppo, questo club, perché ha paura che crea a suo volto un suo esercito che fa contro al suo. e quindi anche Shingo è in dubbio tra uno e l'altro, però ovviamente la patata almeno all'inizio tira sempre, quindi andrà sempre verso la sua presidentessa, almeno opta per lei almeno all'inizio, poi si vedrà lo sviluppo e il proseguo del manga. Vediamo molti poteri esp, è molto violento come manga, come tutti i manga di Gonagai, quindi c'è dentro un sacco di violenza, non solo fisica ma anche psicologica e davvero ricorda molto Devilman per certi aspetti, molto alla lontana, però per certi aspetti sì. Se vi piace Gonagai non potete lasciarvelo scappare di sicuro questo manga, perché secondo me davvero prenderà un buonissimo livello, perché davvero c'è davvero tutto, molti impulsi violenti come questi ragazzi che scoprono i poteri e il potere corrompe sempre e se ne fa uso in modo ingiustificato in questi poteri, anzi solo per un proprio tornaconto, chi è forte comanda sempre sui deboli e quindi come sempre Gonagai vuol puntare il dito contro questa cosa, dare l'attenzione al lettore di stare attenti perché chi ha troppo potere, se avete troppo potere rischiate di abusarne troppo, quindi è un po' un monito sia ai lettori ma anche a chi comanda il Giappone di non sfruttare troppo il proprio potere per fare del male. Questo soprattutto in Devilman, però molte scene erotiche ci saranno in questo manga, molte scene sensuali, molta violenza, quindi proprio un concentrato di violenza, di impulsi anche sia sessuali che violenti in questo manga, è classico Gonagai ovviamente, quindi se l'avete già letto Gonagai sapete cosa aspettarvi e vedremo anche il protagonista probabilmente più avanti una sua evoluzione mentale, tutto quello che ha nascosto e celato dentro se stesso, dentro il suo cuore, probabilmente uscirà e capiremo effettivamente anche il vero carattere del protagonista che è un pacifista il suo ma è un pacifista perché non è convinto e sicuro della propria forza, però quando è messo le strette tira fuori tutto il suo carattere e quindi vedremo, spero, penso, una crescita di questo protagonista anche il fatto di poteri psichici e mentali. Vedremo probabilmente più avanti delle battaglie proprio a colpi di poteri mentali e non vedo l'ora di prendere il secondo e capire, e capire ecco, perché Gonagai secondo me è sempre da prendere, ovviamente ci sono opere che sono imprescindibili, altre un po' meno, però Gonagai è uno di quegli autori che prendo sempre a mani basse, così come Usamu Tezuka, sono quegli autori che a prescindere li prendo, punto. Non so, fatemi sapere se l'avete letto, cosa ne pensate, se lo conoscevate, se non lo conoscevate, comunque iscrivetevi e mi raccomando che ci tengo davvero tanto.